Federico Ghiglione eccoci qui, nono Daddy Camp, siamo nel luogo all'interno del parco del conservatorio di Albaro dove sabato una intera giornata sarà dedicata ai bambini e ai papà. Come nasce l'idea del Daddy Camp? Il Daddy Camp è una giornata con papà, quindi nasce dal compleanno di mio figlio, nel 2010 mio figlio ha fatto una festa di compleanno e ho voluto organizzargliela in maniera carina, abbiamo organizzato dei giochi in campagna con le carriole, con il legno, con l'ardesia e da lì è nata l'idea poi di continuare ogni anno a farlo e è nata una manifestazione che è diventata un po' l'emblema della mia associazione Professione Papà e ogni anno, il sabato o la domenica, prima dell'inizio delle scuole, organizziamo un evento che cerca di proporre a tutte le famiglie le attività extrascolastiche più interessanti oppure che io reputo interessanti oppure che ho addirittura approvato in prima persona con i miei figli. Quindi una giornata con papà è venire qui insieme al proprio figlio e giocare insieme, giocare insieme e vedere giocare il proprio figlio perché uno dei difetti che hanno i papà è quello di proporre sempre le attività che piacciono a loro e non ascoltare e guardare le propensioni del figlio, quindi uno degli obiettivi è quello di far vedere ai papà i loro figli giocare e dar loro suggerimenti per magari delle attività scolastiche un po' più mirate, un po' più centrate. Con grande orgoglio con Stadino Sport siamo al tuo fianco in questa bellissima giornata, hai coinvolto tante realtà sportive, tante associazioni, proviamo a fotografarle? Allora, prima di tutto il rugby, il rugby è il mio nuovo amore, l'amore che da quando sono, io sono un calciatore, un ex calciatore bilettante ma da quando sono intanto genitore mi sono innamorato del rugby perché ha dei contenuti educativi straordinari quindi il rugby tots, motoria per bambini dai 2 ai 5 anni, giovanili del rugby, CUS Genova, Under 6, Under 8, Under 10 progetto Cinghialetti, il rugby nelle scuole, questi sono i miei cavalli di battaglia ma poi c'è il tennis, poi c'è il warando, poi c'è il karate poi c'è il tennis, l'abbiamo già detto, il basket e poi anche attività diciamo un po' più di consulenza quindi abbiamo associazioni che aiutano le famiglie nella crescita dei loro bambini e poi tanti amici, tanto divertimento quindi è quasi un ritrovarsi. Tutto il giorno la fascia oraria dalle alle? Allora noi cominciamo alle 10 e poi andiamo avanti fino alle 6 e il pomeriggio, ci tengo a dirlo, il conservatorio che ci ha adottato da 4 anni ormai metterà a disposizione le sue sale per far conoscere gli strumenti musicali ai bambini quindi avremo 3 o 4 coppie di papà figlio che suoneranno uno strumento e faranno provare gli strumenti a chi vuole conoscerli quindi grazie al direttore Jovino che è un grandissimo ospite e grande sensibilità per i ragazzi. Hai parlato di conservatorio, allora spieghiamo anche dove siamo perché come sempre Genova ha degli angoli sconosciuti straordinari nel cuore di Albaro c'è questo parco del conservatorio, come ci si arriva? Allora è una chicca, è un salottino all'interno di Albaro proprio davanti alla farmacia di Via Albaro c'è un cancello dentro il quale c'è un bellissimo parco con una bellissima villa che ospita il conservatorio Niccolò Paganini che è un'eccellenza genovese e italiana e niente ci troviamo qua, per fortuna è un parco ben tenuto e quindi sappiamo di poter dare un'ottima accoglienza a tutti. Si può arrivare qui direttamente sabato mattina alle 10 oppure già online fare un'iscrizione, come? Allora se si va sul sito professionepapà.it c'è il modulo da compilare compilando quello si può arrivare al desk e dare semplicemente il codice e si entra velocemente. Nono Daddy Camp sabato 15 settembre vi aspettiamo qui al parco del conservatorio in Albaro. Grazie Federico. Grazie a tutti, ciao.